Al marito, dopo l'avvio delle indagini, venne imposto il divieto di avvicinarsi alla moglie e ai tre figli. La donna, secondo i PM della procura, sarebbe stata vittima di violenze e pressioni psicologiche esercitate non solo dall'uomo ma anche dalla propria madre e dal fratello. Adesso le indagini sono state chiuse e per i tre è stato disposto il giudizio immediato. Secondo i PM della procura ci sarebbero tutti gli elementi per ritenere che la donna, vittima delle presunte violenze, si sia venuta a trovare in uno stato di forte sudditanza, maltrattata e costretta a dipendere dalle volontà del marito e dei familiari. Alcuni episodi si sarebbero verificati in presenza dei tre figli che avrebbero indicato alcuni particolari agli investigatori. Nel corso delle indagini le difese, sostenute dagli avvocati Marco Granvillano, Davide Limoncello e Salvatore Russotto, hanno invece ridimensionato i fatti, sostenendo che non ci sarebbero mai state violenze ma solo qualche litigio familiare senza ulteriore seguito. Secondo questa linea il clima di contrasto che si sarebbe vissuto all'interno del nucleo familiare avrebbe poi spinto alle denunce. Ora i tre potrebbero trovarsi a sostenere la loro linea in dibattimento, sempre che non scelgano riti alternativi.